Ciao amici, benvenuti in una nuova puntata della rubrica della redazione consiglia, rubrica dove portiamo purtroppo giochi che non siamo riusciti a recensire al lancio, che abbiamo recuperato dopo un tot di tempo, e ovviamente giochi che magari appartengono alla nostra collezione. Ovviamente qual è l'obiettivo? Consigliarvi i giochi che ci sono piaciuti. Oggi vi portiamo Sonic Frontiers, un gioco che volevo portare al lancio ma che purtroppo non sono riuscito a prenderlo quando uscì e quindi l'ho recuperato dopo un tot di tempo a prezzo scontato. Insomma, tante volte vi consiglio i buoni acquisti a prezzi stracciati. Prodotto SIGA, sviluppo Sonic Team, lingua sia doppiato ai sottotitoli in italiano, battiamo le mani, e disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS con l'aggiornamento gratuito e Nintendo Switch. Switch. Sì ragazzi, avete capito bene, c'è anche per Nintendo Switch. Super di 4K sì, prezzo di lancio per tutte le versioni, scontato, 39,90€, 40€, ci sta benissimo. Prezzo diciamo budget. Generazione Aventura. Parliamo della trama. Due mondi si incontrano nell'ultima avventura ad alta velocità di Sonic. Mentre cerca il caos e mainland, scomparsi, Sonic si ritrova sperduto su un'intera isola piena di bizzarre creature che cercano di attaccarlo. Affronta ordine di nemici potenti, cerca di svelare la verità, insomma cerca di ritornare sul suo mondo natale. Certo, io adesso l'ho raccontata un po' in modo, diciamo, un po' in modo bizzarro, ma la trama è comunque ricca di colpi di scena e va seguita per bene giocando il gioco. Perché lo consigliamo? Allora, premessa, sinceramente io non ho mai giocato a nessun gioco di Sonic, quindi questa è la mia prima esperienza su questo brand, cioè praticamente è la mia esperienza da zero. Dovrei recuperare gli altri titoli per capire un po' il personaggio, la trama, eccetera, eccetera. Quindi, ragazzi, scusatemi, ma per me è il primo gioco di Sonic, quindi racconto la mia esperienza su questo gioco qua. Allora, quello che posso fare appunto è raccontarvi le emozioni che mi ha fatto provare questo gioco. Allora, diciamo che è una cosa un po' nuova per me, quindi io di Sonic conosco molto poco, so che è un brand conosciuto, ci sono stati molti giochi, ma purtroppo non ho mai giocato a nessuno di questi. Potrei anche comunque recuperarli perché alcuni li posso anche trovare a un prezzo diciamo abbastanza scontato. Allora, parliamo invece di cosa mi ha sorpreso. Allora, prima di tutto l'aspetto tecnico. Il gioco è stato realizzato col motore grafico Area Engine 4. Offre abitazioni abbastanza varie, sono dettagliate, forse piccoli lievi caricamenti in ritardo delle texture, buono in frame rate per quanto mi riguarda. I desideri dei personaggi e dei nemici, anche questo è abbastanza vario, sono dettagliati, sono vari e con animazioni fluide. Doppiaggio, ovviamente, in italiano, ragazzi bravissimi, c'è anche il comparto sonoro con musica a tema ben implementato, insomma, dal lato tecnico e sonoro hanno fatto un buon lavoro. Per quanto riguarda il gameplay, invece, devo dire in realtà, sono rimasto sorpreso. Ad un po' timore, perché di solito, non avendo giocato ai capitoli precedenti, comprare un titolo di un'avventura nuova, che non si conosce il personaggio, non si conosce ben poco, zero di Sonic in sé. Insomma, lascio un po', diciamo, spiazzati. Io so che Sonic è un porcospino che ha una velocità che supera persino la Ferrari, anche il treno adatta velocità. Diciamo che il gioco, bene o male, col porcospino Sonic è tremendamente veloce. Cioè, la sensazione di velocità e potenza in questo gioco ve la farà sentire tutta. Cioè, praticamente come un razzo. Puff! Parte come un razzo e non lo vedete più. Insomma, il gioco esplorerete ad alta velocità il mondo di gioco, alla ricerca di missioni e ovviamente i collezionabili, che se non sbaglio sono quei anelli che si trovano in giro. Poi ovviamente ci sono anche i combattimenti, oltre all'esplorazione, perché sennò sarebbe un gioco vuoto, cioè solo l'esplorativo dopo povera da anche la barbazza. Ci sono anche i combattimenti contro le strane creature che ho citato prima. Ecco, i combattimenti sono molto, molto impegnativi, specialmente contro i boss di fine livello. Sonic può fare uso e appello della sua velocità per scagliare attacchi potenti. Però ovviamente non può attaccare a cazzo, cioè a caso. Ogni nemico ha i suoi punti deboli, bisogna studiare i movimenti del nemico per poterlo attaccare al meglio. Quindi il gameplay cos'è? Il gameplay è intuitivo, immediato, divertente ma anche impegnativo. Il livello di sfida che ha il gioco è comunque buono. Riesce a tenere testa il giocatore, non bisogna mai stare fermi, bisogna sfruttare al 100% le abilità di Sonic, perché altrimenti si è spacciati. Devo dire la verità, io so che magari certi giochi di Sonic, da quello che ho capito, non sono usciti tutti per bene. Ben pochi sono usciti bene. E di questo gioco avevo letto alcuni commenti negativi sul timore che poteva venire fuori una tremenda cavolata. Invece, devo dire la verità, io l'ho provato, a me mi è piaciuto. Poi alcuni ho dato un'occhiata alle recensioni su Steam, su altri siti, ho visto che hanno lasciato una recensione più che positiva, cioè magari qualcosa non è piaciuto di sicuro. Però a definitiva è risultato un gioco di Sonic molto buono, cioè c'era un po' la paura, ma invece è venuto fare un bel capitolo, che io mi sento di consigliare, e ovviamente per chi come me, magari ha le prime albi, potrebbe magari farci un pensierino. Invece per chi conosce già il brand di Sonic e che magari all'inizio aveva un po' di timori, vi posso garantire che potete andare a occhi chiusi, cioè il gioco è stato fatto veramente bene, c'è tutto quello che dovrebbe avere Sonic. Velocità, esplorazione, combattimenti, piattaforme dove si può saltare da una parte all'altra per raggiungere diverse posizioni, insomma è bello ricco. E poi la grafica, ragazzi, la grafica è stata curata per bene. Bene raga, adesso direi da salutarevi, spero che vi sia piaciuto, anche voi se conoscete Sonic Frontier ci avete giocato, fatemi sapere un po' la vostra opinione personale sotto nei commenti e noi ci vediamo ovviamente per la prossima puntata. Grazie a tutti, ah, in link di iscrizione trovate come sempre le pagine social della redazione, i negozi consigliati GameStar e NerdGravity, trovate anche i canali nostri amici, trovate praticamente anche i canali di Citiglio se volete fare donazioni e adozioni e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti! Grazie a tutti!